Comissà, mi sa che alla prima chiamata abbiamo beccato i genitori. Toglio. Sia puramente. Dove li troviamo, questi? Comissà, io mi sono già permesso di convocarli in ospedale per il riconoscimento. Esica. Della figlia. E' stato rinvenuto all'alba in un fosso vicino alla Statale 14 il corpo senza vita di una giovane ragazza, attualmente ancora senza un nome. E' questo che venne dalle mie spalle, il luogo in cui questa notte, in maniera del tutto casuale, è stato rinvenuto al cadale. Ancora una volta su queste cose, una tranquilla cittadina di Bacchia. Ancora una volta, la vittima è giovanissima. I signori urlano. Il giovane poliziotto ha la faccia di chi non crede in niente che io possa tradividere. Come funziona? Il poliziotto non facemi, forse possiamo scegliere. Mario continua a guardare la sua bambina e a bassa voce dice, provi i bastardi che gli hanno fatto questo. Mi fa un'inaudita tenerezza, sentirgli inventare parole non sue. E' piccolissimo. Il corpo lo amo come se gli scoprissi qualcosa di bellissimo che non mi aveva mai lasciato vedere. Il poliziotto risponde. Vivo per questo. E manda tutto a puttane.